presto il mondo sarà immerso nella melma e io dominerò la superficie dal profondo degli avessi e questo chi è? verrete tutti spriciolati dalla mia morsa di chiunque si tratti è nel posto sbagliato al momento sbagliato si va in scena l'ascesa del minatore è cominciata tesoro, noi inseguiamo il minatore tu e i ragazzi, occupatevi di quelle trivelle attento! attenzione! dobbiamo fermare quel pazzo prima che rada al suolo la città allora che stiamo aspettando? ok, andiamo stai attento! piovono massi! non fermarti! anche automobili! forza! per un pelo! che cos'è? sembra un vincolo da trasporto robot il minatore ha mandato dei robot ma loro useremo anche voi le maniere forti attenzione, roba delicata giochiamoci un po' il mondo è mio! che cos'è quel suono? è il suono del male! conto! il veicolo instabile si autodistruggerà distruggere gli umani pare che il cratere ci abbia aperto una strada è ora di vedere come te la cavi con i salti, grand'uomo a chi arriva prima aspetta, qui devi prendere bene le misure basta scegliere eliminateli! non è stata così dura guarda, altri uomini di latta eh? mi avrà mandato il minatore per fermarci forza, rispediamoli all'inferno avanti! che cos'è? un terremoto! le macchine del minatore! di sicuro avrà in mente qualcosa di sporco non se lo anticipiamo per di qua aspetta, che cosa abbiamo qui? stai attento ha dei missili beh, fai assaggiare i tuoi muscoli non riesco ad avvicinarmi a quella torre Siberius occupati di quella torre forse posso provare a congelare il motore forse posso congelare la torre ah, lungo questa strada ci sono altre torri meglio mettersi al riparo quelle macerie sono un riparo sembra che si siano dati da fare dobbiamo arrivare alle torri occhio ai missili occhio morite sovraterrestri morite bello fresco grazie al cielo no? grazie al cielo no? no? fermo ah, hai sentito? stai calmo c'è qualcosa che non va, Siberius schiavizzare o distruggere distruggere distruzione in corso diventano sempre più gosso piacere Siberius il minatore deve essere da questa parte dobbiamo trovarlo ma avanti così farò tardi a cena forza, attraversiamo quel barco morite sovraterrestri vi inchinerete al cospetto del minatore la vostra insignificante amata ma schiacciata la superficie soccomberà all'ombra del minatore lo hai sentito? sembra che abbia un piano è tipico dei cattivoni adorano ascoltare la propria voce andiamo avanti ehi, c'è della luce da quella parte perchè non spondi quel muro? demolisci quel muro per di qua è bloccato saliamo per la rampa ci siamo quasi le vostre armi sono inutili contro di me i sovraterrestri i vostri infinimenti sono solo bacchi tremate al cospetto del minatore che porta sterlingo dagli abiscini va bene nemico muori muori muscoli contro batterie uno a z facciamogli saldare i bulloni preparatevi a subire l'ira funesta del minatore quando i cieli diverranno neri e la vostra preziosa closta collasserà striscerete ai miei piedi robot abbattete le macchine volanti questi cattivi hanno sempre seri disturbi con... eccolo il minatore eccolo quello sarebbe il minatore a me sembra una tab le mie macchine moderneranno la superficie con pugno di ferro avrete l'onore di essere nominati con la mia magnificenza ammirate ammirate la potenza dei tre bella robot fermati minatore è ora di finirla secondo qui ragazzi pensavo sarebbe stato meglio è solo un piccolo controcello venite a prendermi se avete fatto supereroi nooo carica ecco ora sarebbe proprio il caso di usare... beh devo dire che è stato un buon allenamento allora al lavoro sappiamo dove è andato quindi seguiamolo allora ti ho guardati viene più ha si Non penso che lasciarsi indietro quell'armamento facesse parte del piano dovrebbe aver previsto le nostre mosse quindi dobbiamo aspettarci questo posto è instabile occhio ai cedimenti dove vuole scavare? pensa di arrivare in Cina? forse Siberius lo sai i cattivi sono sempre in fuga e a me piace il seguimento al massimo perdi qualche chiletto almeno io nella mia prima tuta ci entro non vi meritate la mia preziosa attenzione sovraterrestri di voi si occuperanno le mie creature di voi si occuperanno le mie creature di voi si occuperanno le mie creature di voi si occuperanno le mie si è appena lasciato indietro quel mostro meccanico niente paura ho una bomboniera di pugni tutta per l'uomo arriva l'inferno arco a piaccia l'acqua l'acqua si Ahahahah! Chi la vostra mente limitata non può comprendere la complessità dei miei piani? E' inutile inseguirmi! Ancora voi? Allora non avete proprio capito la lezione! Siberius, ponte di ghiaccio! Sei forse tu in grado con il potere del cielo? Puoi trovare un terreno stabile se non vuoi che si sguardi! E' il ringhio robot, sono un problema! Distraili mentre io creo un passaggio! Come faccio? Sono dall'altra parte del precipizio! Può anche ragionare per te! Prendi qualcosa, lanciatelo addosso! Ottima idea, ghiacciolino! Prendi una a mezz' Cosa cosa è? No, 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 no. Distruggeteli! Il mio progetto richiede tutta la mia attenzione e non ho tempo per stupide distrazioni. Braggio congelate! Ah, non è giusto. Facciamo a seguirlo. Ci deve essere un modo per attraversare. Trovare il posto adatto. E adresserci. Via libera! Puoi congelare! Epa! Il ponte fresco in arrivo. Oh, il livello è vero! Stolti! Come avete potuto lasciarveli scappare? Fermate questi stupiti amanti nel sole o vi spegno tutti e vi spegnisco allo sfascia carrose. Carmi, troviamo da soli alla strada. Grazie. Ho l'impressione che non siamo qui per ascoltarci. Ok! Fermateli e fate le portiglia! Questa deve essere la loro tomba. Non avranno l'ora di vedere il mio nuovo impianto di deturpazione. Questo è un giorno di gloria per il minatore! Ma anche le mie guardate! Il nemico è alle porte! Distruggeteli! E portatemi i loro corpi molli per adornare il mio trono! Mecca di questo! Sei finito, minatore! Arrenditi subito! Ormai ti abbiamo impugno! Stolosi! Sono io che ho impugno voi! Attacco! Patetici sciocchi! Credete di aver vinto? È una falsa vittoria la vostra! Saffiatelo! La fine del vostro pianeta è appena iniziata! Ora che hanno visto il mio volto, hanno visto quello del loro carnificio! Rido dei nostri superpoteri! Arrenditi il minatore! È finita! Che peccato! Pare che il minatore non voglia più giocare! Davvero ci sottovaluta se pensa di potersene andare via così facilmente! Facilmente! È questo che ti ami ne è! Quella cosa sembra progettata allo scopo di ribaltare il pianeta! Dobbiamo fermare il minatore! È in fretta! Il magnomizzatore! Qualunque cosa sia è la causa di quello che sta accadendo! Dobbiamo eliminarlo al più presto! Prima sistemiamo il magnomizzatore e poi occupiamoci del minatore! Possiamo prendere una scorciatoia attraverso l'impianto di deturpazione! Sembra una specie di sistema per il pompaggio di melma tossica! Da uno degli impianti minori si sbuca vicino al magnomizzatore! Che cosa stiamo aspettando? Si va in scena! Che cosa stiamo aspettando? Questo porta a un martingegno infernale! La mappa indica che questa strada conduce al magnomizzatore! Spero che quando avremo davanti questo magnomizzatore saremo in grado di riconoscerlo! La mappa indica che questa strada è stata accaduta! La mappa indica che questa strada è stata accaduta! La mappa indica che questa strada è stata accaduta! La mappa indica che questa strada è stata accaduta! È un po' di riconoscerlo! Ah, fantastico! Un altro! Vogliamo riprovare? Lascialo pure a me! È tutto tutto! Spostatevi, ragazzi! Forza! Fai quello che devi fare e in fretta! Ah, che forza! Il prossimo! Scopetto che hanno una parca, vinci sempre il perus grosso! No, di solito finisce che crolla il baracchino! Guardate, non ci siano premi in quel caso! Non ci si siano mai avanti! Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. 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 Sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. 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 Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì. Sì, sì. Sì, sì. 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 Sì, sì. Sì. Sì, sì. Sì. Sì, sì. Sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. 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 Sì, 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 sì. Sì. Sì, sì. Sì, sì. 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 Sì Sì. Sì. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Siamo qui per spegnerlo. Spegnerlo? L'alimentazione di questa stupefacente macchina è al sicuro nelle profondità di una caverna subacquea nel sottosuolo. Per una visita guidata alla centrale energetica di pressurizzazione sottomarena dovrete prima sopravvivere a me e poi fissare l'appuntamento con il guardiano della centrale, Tag. Il magnomizzatore è pronto per l'attivazione e voi non potrete fermarlo, non si può spingere. Pensavamo di staccare la spina, noi abbiamo intenzione di sfasciarlo, lo faremo a pezzi. Distruggere il magnomizzatore? A questo non avevo pensato. Beh, forse riuscirò a persuadervi a salvarvi la vita piuttosto! Il minatore ci ha mandati per disattivare il sistema. Questo non è possibile! Tenetevi i vostri comuni quando sarete distrutti. Per apprezzare i risultati di un magnomizzatore dovrete uscire vivi da questo attacco. Non penso di riuscire a congelare tutto! La macchina è inarrestabile, la superficie del vostro corpo e il resto sarà più occupa di una rotta. A che servono questi azzecchi? Non lo so! Sembra un grosso macchinario! Sono gli alternatori magnetici del nucleo. Non toccate gli operativi di nuova. Il pianeta sta iniziando a uscire. Il vostro viaggio sta per concludersi. Morite, sovraterrestri! L'energia aumenta. Il magnomizzatore è quasi pronto a far ruotare il globo terrestre. Piccoli spostamenti sono già in atto. L'attacco nemico segue uno schema. Quale schema? Non abbiamo tempo di analizzare schemi. Dobbiamo trovare il modo di disattivarmi. Subito! Ora! Mi dispiace, sembra che vi perderete il gran finale del miniatur. Per me che cosa? Per me che cosa? Per me che cosa? Grazie a tutti. 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 Non abbiamo finito. Ma per favore. Grazie a tutti. 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 Ok. . . . . . . . . . Grazie a tutti. 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 Ma che bella macchina. Grazie a tutti. 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 No, no. Grazie a tutti. 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 No, no. Grazie a tutti. 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 Non è ancora finita, non riceverò il 7 di accessori gratuiti e il duratore, si smagma per favore, mati del mio ufficio e il resto della mia scorta personale. Lavorano sicuramente più di te, non immaginate il quale guai ho visto. Non abbiamo tempo di cincischiare, lanciagli addosso quei rottami. No, non è vero, non è vero. Abbiamo messo in fuga. Si è smappa. Ho bisogno di assistenza qui. Avete distrutto la mia bomba? La terra è stata risparmiata. La bomba disinnescata. Il minatore resterà con soli 97 trivella robot giganti e si accorgerà che l'armata è incompleta. Stancherà l'armata un po' di... Che cosa sono tutte queste parole a pezzo? Sta scappando! Faremmo meglio a scappare anche noi, se non vogliamo diventare dei fossi. Stancherà l'armata un po' di... E' l'ultima volta che faccio una cosa del genere. Ehi, questa deve essere la centrale energetica di pressurizzazione sottoparina di Daule. Intrusi all'ingresso! Isolare l'area, chiamare rinforzi! Non è grave, è vero? La fabbrica di robot giganti ci sta crollando in testa e tu dici che non è nulla di grave. Stanno parlando di me. Attenzione! Rilevato cedimento strutturale. Isolamento corridoio 1108 per evitare allagamento. Le cose si mettono male. Dobbiamo uscire di qui prima che ci caschi in testa qualcosa. Certa gente ha proprio tempo alla pezza. Questo impianto fornisce l'energia al trimesvatore. Prepetta ancora per poco! Prepetta ancora per poco! Energia trimelvatore instabile, l'energia secondaria verrà ridirezionata all'impianto centrale, riflettori e laser resteranno attivi. Bene, lasciate pure le armi azionate, grazie mille. Sistemi ambientali di sopravvivenza reimpostati al 73%, prego. Sistemi ambientali di sopravvivenza, grazie mille, grazie mille, grazie mille, grazie mille, grazie mille. I comandi sono bloccati! Ah sì, tanto abbiamo tempo. Ok, tu combatti e io congelo! Ci siamo! Forza, andiamo! Forza, andiamo! Grazie a tutti. 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 Anche la porta di questa stanza è chiusa e non riesco a creare un ponte di ghiaccio per raggiungerla. Troveremo un'altra strada. Grazie a tutti. 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 Attenzione. Attenzione. Palla strutturale critica nel settore 6041. 4-1, danni non contenibili. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. sto me rendo a tutti. con il contatto con quella roba. a tutti. 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 che cosa sta aspettando? a tutti. 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 altri sistemi di sicurezza. ma allora è proprio un chiodo fisso. non li ho progettati io, li ho solo fermiciati. Meglio fare in fretta. Tristorcete i generatori per disattivare i raggedi laser. Dai di sollevare la porta Grazie a tutti 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 Lo vedo Frede Grazie a tutti Grazie a tutti Minatore Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Ogni Grazie a tutti Tutto qui Grazie a tutti Grazie a tutti Tutto qui Grazie a tutti Mi avete Grazie a tutti 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 Grazie a tutti